Cosa vuol dire avere fede? 20 giugno 1976 Figli di Letti, sia pace a voi e grazia ed ogni bene. Sono la madre vostra, che in questo luogo riceve e dà consolazione attraverso la preghiera e l'amore. Lo so che molte volte voi volete delle consolazioni umane e sensibili, ma la volontà di Dio non è sempre aderente alla vostra volontà. La volontà di Dio è lungimiranate e vede qual è il vostro vero bene. Affidarvi ad essa e accettare la vita come si presenta, con le sue difficoltà, cercando di vivere santamente, è il modo più facile per non avvertire troppo il peso della croce e per portarla con amore. Sappiate che molti santi sono passati per la vostra stessa via, e con la grazia che Dio non lascia mancare a nessuno e soprattutto guardando la croce alla luce della fede, poterono godere di una grande tranquillità. Molte volte i cristiani riproducono esattamente il comportamento degli apostoli, in determinati momenti. Ricordate? Gesù era salito su una barca con alcuni di essi, e appoggiato il capo su un cuscino, si era addormentato. Intanto, si leva un forte vento e le onde portano acqua nella barca fino a minacciare di travolgerla. Si avvicinano allora a Gesù e, chiamandolo a gran voce, dicono, Maestro, affondiamo. Gesù si alza, fa cessare il vento, comanda alle onde, poi, volgendosi agli apostoli, dice, Perché avete paura? Non avete fede? Avrebbe potuto dire, Non sapete che io sono Dio, e la natura e tutte le creature del mondo mi sono soggette? E ancora poteva dire, Non sapete che io sono con voi? Molte volte fate così anche voi. Vi lasciate prendere da timori inutili, e non pensate che la provvidenza di Dio ha cura di ogni anima, e la guida al porto. Aver fede, vuol dire abbandonarsi fra le braccia del Padre e fidarsi di Lui. Aver fede, vuol dire usare della potenza di Gesù, che agisce attraverso i sacramenti per sedare le tempeste della vita. Aver fede, vuol dire lasciar agire lo Spirito sanato, che, per mezzo delle buone ispirazioni, vuol portare le anime alla santità. Ogni avvenimento umano, visto in questa luce, non può che essere trascurabile secondo la carne, mentre deve elevare l'anima ad una preghiera più intensa, ad un sacrificio accettato per amore, e ad una collaborazione spirituale col Signore, per arrivare a quella meta da Lui fissata per ciascuno. La paura, che molte volte entra nei miei figli, non è che un mezzo nelle mani del maligno per portare all'avvilimento, alla tristezza, alla disperazione. È vero che molte volte vi sentite incapaci di risolvere i vostri problemi, che vi sembrano troppo difficili, ma se voi farete intervenire, oltre alla fede, quella buona ragione che vi aiuta a distinguere il bene dal male, e il bene dal meglio, saprete certamente guidare la vostra vita e decidere. Voglio oggi ricordarvi in modo particolare un dovere che ciascuno, indipendentemente dal comportamento degli altri, il dovere di santificarsi. Ognuno, per una strada diversa, può e deve raggiungere quel grado di grazia che Dio gli ha fissato. Una mamma si santifica nel compimento della sua missione, quella cioè di dar vita, di crescere, di educare e di indirizzare secondo la legge di Dio ed umana, i propri figli. Una sposa si santifica nella vita coniugale, nel condividere le proprie responsabilità col marito, e aiutandolo ad essere un buon cristiano, e un buon cittadino. I difetti che i coniugi possono avere, devono essere vicendevolmente corretti, perciò ci deve essere una pazienza ed un aiuto reciproco. Ecco perché nel matrimonio è necessario partire in tre, avere cioè Dio in mezzo, affinché diriga la coscienza dei coniugi. Quando si parte male è difficile arrivare in porto, tanto più se uno tira da una parte e l'altro dall'altra. Come vorrei che queste raccomandazioni fossero oggetto dei vostri consigli ai vostri figli. Così i religiosi si santificano con l'osservanza della propria regola. Purtroppo è tanto facile scivolare da un permesso all'altro, fino all'insubordinazione e alla perdita della vocazione. La vocazione religiosa è una chiamata particolare ad una maggior perfezione attraverso la croce, che si manifesta per mezzo dei tre voti di castità, povertà ed ubbidienza. Se si vive in questo clima, il cento per uno che Gesù ha promesso a coloro che lasciano tutto per amor suo, diventa una realtà, diversamente diventa un fallimento. Ciò che io vi ho detto, riferendomi alla famiglia e agli ordini religiosi, vale anche nel governo della cosa pubblica. Occorre intendere ogni impegno come un dovere e svolgerlo alla luce della legge di Dio, chiedendo aiuto a tutti perché il bene della società sia reale. È necessaria sempre la preghiera e l'onestà di vita. È da escludere la paura di non riuscire in ciò che a ciascuno compete, ed è indispensabile mettere la fede come base, come scudo e come termine d'arrivo. Ora, mentre certamente siete ansiosi di sapere ciò che vi aspetta, io vi assicuro che nessuna cosa sarà contro la volontà di Dio. Intanto, pregate. La vostra forza è solo in Dio, non abbiate paura. Arrivederci.